In questa puntata ti parlo di come lavora un algoritmo Structure from Motion. Questo è l'episodio numero 32 del podcast di 3Dmetrica. Ciao e benvenuti in una nuova puntata del podcast di 3Dmetrica. Io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di misure, di rilievi, di software, di strumenti, di mappe e di cartografia. Nella puntata di oggi ti voglio parlare di come lavora un algoritmo Structure from Motion. Se ti occupi di fotogrammetria, se hai sentito parlare di ricostruzione tridimensionali di oggetti a partire da fotografie, probabilmente hai sentito parlare della parola Structure from Motion che potresti trovare anche abbreviata come SFM. L'algoritmo Structure from Motion è il cuore dell'elaborazione fotogrammetrica ed è quello che è all'interno di tutti i software che ti permettono di costruire forma, dimensione, modelli tridimensionali a partire da immagini. Abbiamo parlato nelle altre puntate di questo podcast di software che fanno questo tipo di lavoro. Abbiamo parlato di Photoscan, abbiamo parlato di 3D Flow Zephyr, abbiamo parlato anche di Pix4D, di Limeupper. Tutti questi software hanno al loro interno il solito principio di base, che è quello che riguarda lo Structure from Motion, cioè lo sviluppo di questi algoritmi che si appoggiano a delle importanti equazioni della fotogrammetria classica, che dopo ti dico, ma fondamentalmente fanno tutti la stessa cosa. In questa puntata ti voglio spiegare nel dettaglio che cosa succede in questa fase, che cosa succede quando le immagini vengono messe insieme una con l'altra e si cerca di ricostruire la forma, la dimensione, la geometria di una cosa che è stata rilevata e se ne dà una rappresentazione tridimensionale. In questa puntata ti parlo del cuore della Structure from Motion. Prima però ti ricordo soltanto che puoi trovare tutte le puntate di questo podcast nel quartier generale online di 3D Metrica, che è www.3dimetrica.it Lì ci trovi anche tutti gli articoli del blog, trovi le mie coordinate per contattarmi e hai la possibilità di iscriverti alla newsletter settimanale. Ma ora parliamo della Structure from Motion. Quando si fa un'elaborazione fotogrammetrica, la parte che richiede più risorsa da un punto di vista hardware e più tempo da un punto di vista di elaborazione del software che lavora, lavora, lavora è la nuvola densa. E in alcuni casi si confonde la nuvola densa con la Structure from Motion, con la risoluzione di equazioni importanti e con il lavoro di questi algoritmi Structure from Motion. In realtà la nuvola densa, l'elaborazione della nuvola densa, inizia quando è già finita l'elaborazione Structure from Motion. Perché il cuore della fotogrammetria all'interno di software, all'interno di questi software che sono molto evoluti, è uno step prima. L'elaborazione Structure from Motion avviene un passo prima, avviene nell'allineamento delle immagini e nella generazione della nuvola sparsa. Spezzo subito una lancia lunghissima a favore della nuvola sparsa, perché spesso è un po' maltrattata. Noi vediamo la nuvola sparsa, chi fa fotogrammetria vede la nuvola sparsa come un insieme di punti che sono nello spazio tridimensionale, ma non sono così densi come i punti della nuvola densa, non hanno quella pil che hanno i punti della nuvola densa, sono un po' spellacchiati e quindi si tende ad andare un po' via veloce sulla nuvola sparsa, quando in realtà la nuvola sparsa è il risultato dell'algoritmo Structure from Motion. La nuvola sparsa è il punto di arrivo dell'elaborazione fotogrammetrica Structure from Motion. Il cuore dell'elaborazione fotogrammetrica sfocia, diciamo, il risultato dell'elaborazione fotogrammetrica sfocia con la nuvola sparsa, non solo con quella, ma diciamo che quello è un bel punto d'arrivo. Da lì poi si costruisce tutto quello che viene dopo, si genera la nuvola di punti densa, che poi un po' il succo è il prodotto principe dell'elaborazione fotogrammetrica e poi se serve si possono generare anche i modelli 3D, gli ortofoto e i modelli digitali di elevazione. Ma la nuvola sparsa davvero è importante perché è lì che termina la Structure from Motion. Structure from Motion vuol dire forma dal movimento. Structure from Motion dal movimento. Con questa parola si intende la possibilità di ricostruire la forma e la dimensione e la geometria di un elemento a partire dal motion, cioè dal movimento di una fotocamera che si sposta all'interno o all'esterno o intorno a quello che stai fotografando, che stai rilevando, e scatta fotografie da punti di vista diversi. Se tu immagini di fare un rilievo fotogrammetrico, aerofotogrammetrico di un'area, di un terreno, magari con un drone, tu parti con il tuo drone e gli fai fare una serie di fotografie in punti di scatto diversi che coprono tutta l'area. Quindi ti sposti col drone sopra tutta l'area di rilievo e fai fotografie. Se tu vuoi fare una ricostruzione tridimensionale di un oggetto, potrebbe essere un monumento, ma potrebbe essere anche qualcosa di più piccolo che fotografi con il tuo smartphone, tu scatti fotografie di questo oggetto ruotandoci intorno, girandoci intorno, quindi hai il movimento e il movimento della macchina fotografica, il movimento dei punti di presa che ruotano intorno a questo oggetto. È da qui che si... è questo che significa structure from motion, cioè la parte fondamentale è acquisizione da punti di vista diversi di immagini della stessa cosa. Questo un po' poi è il succo della fotogrammetria classica. La fotogrammetria permette di ricostruire forma, posizione e dimensione di un elemento a partire da fotografie, a patto che queste fotografie inquadrino la stessa cosa da punti di vista diversi. E questo è giusto una nota etimologica sulla parola structure from motion. Ma adesso vediamo come funziona veramente l'algoritmo structure from motion e cosa succede quando si lancia un comando importante all'interno di un software di elaborazione fotogrammetrica che è l'allineamento delle immagini. L'allineamento delle immagini si divide in tre parti, cioè quello che succede quando noi schiacciamo il pulsante e avvia al processo di allineamento delle immagini sono tre cose e poi te ne parlo nel dettaglio, ciascuna di esse te la esplodo un pochino meglio. Succede che all'inizio si fa una features point detection, cioè un'identificazione di punti caratteristici, poi c'è una seconda fase che è una matching point, cioè l'identificazione di punti di legame a partire dai punti caratteristici e poi c'è una fase di bundle adjustment che è la parte che viene presa dalla fotogrammetria classica che risolve una serie di equazioni che sono le equazioni di collinearità per arrivare alla generazione della nuvola sparsa. Ma non solo, perché l'allineamento delle immagini permette di definire in maniera precisa qual è la posizione corretta di ogni immagine del tuo dataset una rispetto all'altra, definire una serie di parametri intrinseci di ogni immagine che sono parametri legati alla distorsione, legati alla posizione del punto principale che poi ti dico che cos'è e poi alla fine arriva anche la generazione della nuvola sparsa che sono punti nello spazio tridimensionale. Quindi questa parte è davvero una parte importante. Qui dentro c'è tutto il cuore dell'elaborazione fotogrammetrica. A volte si va un po' veloce e dici ma sì, ma dura poco l'allineamento, andiamoci veloce, ma in realtà attenzione perché qua dentro c'è tutta l'elaborazione, non tutta, attenzione, qua dentro c'è una bella parte dell'elaborazione fotogrammetrica. Andiamo step per step. Quando si fa fotogrammetria, quando si fa un rilievo fotogrammetrico quello che succede tipicamente è che si arriva in ufficio con un bel po' di immagini. Quante? Dipende da quanto è grande la cosa che stai rilevando e da quant'è la sovrapposizione tra immagine e immagine che tu hai scelto di avere. Valori medi di sovrapposizione sono 80%, 75%, sono valori che si trovano frequenti nei rilievi fotogrammetrici, almeno un valore che io uso molto. 80% è un mio valore molto di riferimento. Quindi si possono avere tante immagini a seconda appunto della sovrapposizione e della dimensione. 200, 300, 500, io sono arrivato ad avere anche 5000 immagini per 90 ettari di terreno inclinato. Però adesso non entriamo in questi dettagli. Avrai un bel po' di immagini. Immagini di qualcosa che tu vuoi riprodurre e di cui tu vuoi dare una rappresentazione tridimensionale, nello spazio tridimensionale, in modo tale che i punti di quello che ricostruisci abbiano una coordinata x, y e z. L'algoritmo Structure from Motion lavora in questo modo. Prima fase. Features Point Detection. O identificazione di punti caratteristici, che si chiamano anche descrittori. Il software prende ciascuna immagine del tuo dataset, la scansiona per cercare dei punti, se te la dico alla brutta te la direi così, che si vedono bene. Quindi punti tipicamente sono punti che hanno un alto contrasto, ma sono punti che in realtà sono punti da un punto di vista dell'immagine e da un punto di vista tecnico, sono punti che si chiamano stabili, stabili per quanto riguarda la posizione del punto di presa e la scala dell'immagine. Comunque, sono punti che il software vede bene e su cui si sente confidente nel metterci una sorta di spunta, di marker, di puntino. Sono tanti punti per ciascuna immagine. Dipende dai settaggi che tu dai nella fase di scelta dei parametri dell'allenamento dell'immagine, però stiamo parlando di migliaia, migliaia di punti. Ok? Questa è la prima fase. Per ciascuna immagine si identificano i descrittori. La seconda fase è quella di cercare di mettere in collegamento i punti descrittori di tutte le immagini del dataset. Ogni immagine, una volta che ha identificato i suoi descrittori, ha accompagnato una sorta di database, dove dentro, per ciascuna immagine, ci sono le informazioni di ciascun descrittore. La seconda fase, che è questa che ti sto descrivendo, che si chiama fase di matching o di legame, lavora per coppie di immagini. Quindi il software prende un'immagine, la confronta con un'altra immagine e cerca, sulla base dei descrittori che ha trovato nell'una e nell'altra immagine, quale di questi descrittori è comune a tutte e due le immagini. Quando trova dei punti descrittori che sono comuni a tutte e due le immagini, questi punti da descrittori diventano punti di legame. Si trovano in inglese indicati come matching points o tie points. Quando ha finito il confronto tra quelle due immagini, in quella coppia di immagini, il software passa a un'altra coppia di immagini. Tipicamente mantiene fissa un'immagine di riferimento, ne prende un'altra del dataset e fa la stessa identica cosa. Confronta i descrittori e cerca di capire quale dei descrittori può diventare un punto di legame. Questo succede per tutte le immagini del dataset. Quindi ogni immagine del dataset viene confrontata con tutte le altre immagini del dataset. Non è proprio così, non è proprio con tutte. Ci sono dei parametri su cui puoi lavorare per velocizzare leggermente il processo. Te lo dico dopo, però facciamo finta adesso che la situazione sia la più generica possibile, per cui ogni immagine viene confrontata con tutte le altre immagini del dataset. Alla fine succede che ogni immagine avrà un database di punti che sono descrittori, avrà un database di punti che sono punti di legame e per ciascun punto di legame il software sa qual è l'immagine a cui può associare quel punto di legame. In realtà quali sono le immagini a cui può associare quel punto di legame. Perché con una grande ridondanza di informazioni in termini di sovrapposizione alta tra immagini è molto probabile che un punto di legame non lo ritrovi soltanto tra una coppia di immagini, ma lo ritrovi anche tra più immagini, due, tre, quattro, cinque immagini e sono quelli i punti di legame maggiormente stabili, sono quelli i punti di legame su cui si fa più affidamento per la fase di costruzione della nuvola sparsa. Al termine di questa fase, alla termine della fase di matching, quello che succede è che vengono risolte le equazioni matematiche. Arriva la matematica, arrivano le equazioni della fotogrammetria classica, sono le equazioni di collinearità. Succede questo. Ora ti chiedo di immaginare due spazi diversi. Esiste uno spazio immagine, quindi un'immagine ha un sistema di riferimento bidimensionale, quindi è uno spazio bidimensionale, all'interno del quale il software ha mappato tutti i punti descrittori e i punti di legame. Ma adesso i descrittori lasciamoli un attimo indietro, perché questa parte, la parte di bundle adjustment o di risoluzione dell'equazione di collinearità, riguarda soltanto i punti di legame. Per ciascuna immagine il software ha mappato la posizione dei punti di legame in termini di XY in un sistema di riferimento locale, sistema di riferimento immagine. E poi c'è la destinazione, cioè il punto di arrivo che è lo spazio tridimensionale. Ora si deve cercare di portare questi punti di legame dallo spazio immagine nello spazio tridimensionale. Ciascun punto di legame parte con una coppia di coordinate XY nello spazio immagine e deve arrivare ad una terna di coordinate XYZ nello spazio tridimensionale. Quello che succede è che il software risolve per ciascun punto di legame una coppia di equazioni di collinearità per la quale viene verificata la collinearità lungo l'asse ottico tra tre elementi la posizione del punto di legame nello spazio immagine, la posizione del centro di presa e la posizione del punto di legame nello spazio tridimensionale. La posizione del centro di presa, per fartela un po' breve, è fondamentalmente il punto d'incontro di tutti i raggi proiettanti, cioè all'interno di un'immagine avrai ad esempio dieci punti di legame, in realtà sono molti, molti di più, a ciascun punto di legame corrisponde un punto nello spazio tridimensionale, un punto nello spazio reale, la congiungente punto di legame, punto nello spazio 3D, tutte le congiungenti tra punto di legame e punto nello spazio 3D si incontrano nel solito punto, si incontrano nel centro di presa. Quindi l'equazione di collinearità verifica la collinearità di questi tre elementi. Al termine della risoluzione dell'equazione di collinearità hai la possibilità di sapere, il software ti fornisce in output, qual è la posizione nello spazio tridimensionale del punto di legame. Tutti i punti di legame rappresentati nello spazio tridimensionale formano la nuvola sparsa. Gli algoritmi Structure from Motion, i software che si basano su questi algoritmi, si avvalgono di una cosa importantissima che tanto tempo fa non c'era, che tempo fa non c'era, o meglio c'era ma ha dei costi molto più elevati, è la potenza di calcolo che abbiamo a disposizione adesso senza investire dei budget enormi. Se tu immagini che per ogni immagine, scusa il gioco di parole, avrai migliaia di punti di legame e in un dataset tu hai centinaia di immagini, per ogni punto di legame di ognuna di queste centinaia di immagini il software deve risolvere un'equazione di collinearità. Capisci come sia facile arrivare alla risoluzione di milioni di equazioni all'interno di un dataset. Se il dataset incomincia ad essere bello corposo, quindi incomincia ad arrivare a migliaia di immagini, beh, le equazioni di collinearità da risolvere sono tanti. È soltanto grazie alla potenza di calcolo a disposizione dei calcolatori di adesso che si riesce a fare questo processo in maniera relativamente breve. L'allineamento delle immagini, cioè il processo di allenamento delle immagini, o meglio il tempo che tu devi attendere per avere la nuvola sparsa, non è un tempo breve, non stiamo parlando di minuti. Cioè si parla di minuti se le foto sono piccole e se i parametri di calcolo che dopo ti dico tu potrai scegliere rimangono a un livello basso. Ma se soltanto spingi un po' di più sui parametri e scegli di fare un allineamento consistente, ecco che da minuti si passa a decine di minuti fino ad arrivare a ore. Capisci anche il perché ci vuole un po' di tempo. Perché? Perché le immagini sono tante, perché per ciascuna immagine i punti di legame sono tanti e perché per ciascun punto di legame le equazioni di colinearità da risolvere sono tante. Questo è anche un motivo per cui i tempi di calcolo non raddoppiano al raddoppiare delle immagini. Non raddoppiano perché se io ho un dataset di 50 immagini e ci metto mezz'ora a fare l'allineamento un dataset di 100 immagini non ci mette un'ora ma ci mette molto di più perché ciascuna immagine deve essere confrontata con un numero molto maggiore di immagini e quindi l'andamento del tempo di calcolo è un andamento esponenziale, non è un andamento lineare. La nuvola sparsa però non è l'unico prodotto in output al termine dell'allineamento delle immagini, al termine di questa fase dove c'è dentro il cuore structure from motion. Non è l'ultimo perché poi hai in output degli altri valori importanti che sono la posizione precisa di ogni immagine nel dataset relativa una rispetto all'altra perché ad esempio se tu hai delle immagini che sono già referenziate ti puoi affidare a delle coordinate per ciascuna di esse che sono scritte nei dati EXIF nei metadati ma sono coordinate che hanno una precisione molto scarsa a meno che tu non abbia un sistema RTK di bordo al drone ad esempio. In questo modo alla fine del processo di allineamento la posizione relativa cioè una rispetto all'altra di delle immagini è determinata in maniera molto precisa. È determinato anche l'orientamento del piano dell'immagine che avevi al momento dello scatto. L'orientamento è diciamo l'inclinazione di ciascuna immagine nel momento in cui è stata scattata la fotografia. Anche se tu acquisisci delle immagini nadirali se stai volando ad esempio se utilizzi un drone se fai aerofotogrammetria e scatti foto con l'asse ottico verticale stai pur sicuro che non succederà mai che il tuo sensore sia perfettamente orizzontale avrà sempre un'inclinazione e a maggior ragione ce l'avrà se scatti delle fotografie che sono oblique. Ecco, l'orientamento del sensore è un altro dei parametri che viene determinato nella fase di allineamento delle immagini. E poi c'è tutta una serie di parametri che sono interni, intrinseci di ciascuna fotografia che sono legati alla lunghezza focale e ai parametri distorsivi. Te ne parlo velocemente dopo però sappi che anche questi sono i prodotti dell'allineamento delle immagini e dell'algoritmo Structure from Motion. Vediamo in concreto poi quando lanci il comando di allineamento delle foto che cosa succede o meglio che cosa puoi scegliere su che cosa puoi intervenire per lavorare per aiutare il software a prendere delle decisioni e tipicamente quello che si fa è scegliere se fare un processo più o meno veloce più o meno accurato più o meno complesso. Personalmente io conosco bene due software di elaborazione fotogrammetrica conosco bene Photoscan e conosco bene Limeupper credo correggetemi se sbaglio correggimi se sbaglio se hai altre esperienze di altri software che la situazione sia abbastanza simile in tutti i software che lavorano secondo questi principi però adesso quello che ti dico è un po' basato sulla mia esperienza. Quando tu lanci il comando di allineamento delle immagini hai una serie di parametri su cui puoi lavorare parametri che lavorano su due fasi principali che sono due delle tre fasi principali che sono la prima fase di features point detection e la seconda fase di point matching l'individuazione dei punti di legame i parametri che intervengono sulla features point detection ti danno la possibilità di scegliere qual è la risoluzione che il software considera qual è la risoluzione delle immagini che il software considera per andare a identificare a trovare a cercare i descrittori i features point i punti caratteristici generalmente qua puoi scegliere parametri alto medio basso high medium low a volte anche super alto highest quello che succede è che generalmente con high tu praticamente dici al software di considerare le immagini alla risoluzione normale a cui le hai caricate se abbassi questo valore se abbassi questa accuratezza passi da high a medium e da medium a low praticamente il software dimezza la risoluzione delle immagini e quindi perde un po' di dettagli e ci mette di meno ma probabilmente il numero di punti caratteristici che trova è inferiore immaginati l'immagine come un insieme di pixel in realtà è così l'immagine sono dei pixel se tu dimezzi la risoluzione tu hai che da 4 pixel te ne viene fuori uno e tu mi dirai vabbè ma così è un quarto no in realtà si considera dimezzare la risoluzione si considera lungo un asse lungo una direzione l'asse x o l'asse y se tu hai 4 pixel che formano un quadrato ora già i pixel sono quadrati poi ti sto dicendo che formano un quadrato ok facciamo che hai 4 blocchetti che formano un quadrato ciascuno di quelli è un quarto di quadrato se tu dimezzi la risoluzione vuol dire che lungo l'asse x 2 pixel ti diventano 1 lungo l'asse y 2 pixel ti diventano 1 i 4 pixel che avevi in partenza ti diventano 1 pixel quindi è chiaro che riduci il dettaglio delle immagini riduci la possibilità dai meno informazioni al software e quindi lui troverà meno punti di legame di contro di contro però questa è un'operazione che aumenta la velocità nella features point detection puoi scegliere anche il numero massimo di punti che il software ti troverà come punti caratteristici ci sono dei software che ti suggeriscono hanno dei valori di default abbastanza alti software che ne hanno un po' di meno ad esempio photoscan ti dà un features point limit quindi un numero massimo di punti di caratteristici che è 40.000 cioè lui arriva a 40.000 quindi non ti trova non ti trova più punti non ti trova più punti caratteristici una volta che ne ha trovati 40.000 per ogni immagine quindi capisci che sono veramente tanti la seconda fase lo step di matching ha altri parametri su cui puoi agire e sono tipicamente due tipi di parametri un parametro riguarda il il come va il software va a cercare le le immagini nella nel nel pair selection mode cioè nella fase di confronto a coppie per trasformare i punti caratteristici in punti di legame l'altro parametro è il numero massimo di punti di legame che trova per ogni coppia di immagini nel primo caso generalmente hai la possibilità di dire al software guarda considera tutte le immagini passa tutte le immagini del dataset confronta ogni immagine con tutte le altre immagini nel dataset e trova i punti di legame cioè dai punti caratteristici passa ai punti di legame oppure succede nella maggior parte dei software hai la possibilità di spuntare un'opzione che è relativa alla georeferenzazione delle immagini se scatti fotografie da da pr da drone che ha un sistema gps a bordo o se scatti fotografie da uno smartphone che ha un sistema gps a bordo ogni fotografia è georeferenziata in questo modo il software ha quando carichi l'immagine ha dentro nel database di ogni immagine un'informazione sulla posizione mettendo la spunta sulla georeferenzazione su reference dicendo al software considera anche la posizione delle immagini quello che succede è che si velocizza un pochino il processo di matching perché il software riconosce le immagini che sono vicine perché hanno delle coordinate che sono vicine una all'altra e quindi tende a escludere le immagini che sono molto lontane perché secondo lui lì dentro è difficile cioè lì dentro secondo lui tra immagini lontane è difficile che ci siano punti caratteristici che possono diventare punti di legame stabili quindi il processo è un po' più veloce personalmente io scelgo sempre di non usare la georeferenzazione delle immagini ci metto un po' di più ma sono più sono più sicuro che il software lavora con i suoi algoritmi e fa un bel lavoro utilizzando passando tutte le immagini al setaccio quindi confrontando immagine per immagine all'interno della totalità del dataset sono scelte quando carico le immagini all'interno del software prima generalmente io faccio sempre un allineamento molto veloce con parametri molto bassi allora li spunto reference e questo mi serve per capire un po' se quello che ho fatto se i dati di input sono dati validi e quindi sto lavorando con dei dati validi e l'allineamento delle immagini funziona poi dopo resetto l'allineamento e faccio un allineamento completo senza l'informazione della georeferenzazione però questo è un po' il mio modus operandi so che giustamente c'è la possibilità di utilizzare questa applicazione questo vantaggio per cui secondo me ha assolutamente senso farlo specialmente se adesso utilizziamo droni rtk quindi con un posizionamento di alta precisione stanno venendo fuori adesso che ti parlo stanno venendo fuori droni molto interessanti col posizionamento rtk ecco forse qua potrebbe valere la pena veramente spuntare il reference perché la posizione delle immagini è definita con grande precisione rispetto a 3-4-5 metri su cui si basa la posizione di un sistema gps a bordo di un drone o di uno smartphone anche qui anche nella fase di per mode selection puoi dire al software qual è il numero massimo di punti di legame che individua per ciascuna immagine ora il numero massimo di punti di legame che trovi come tie point limit o come matching point limit è un numero che è molto inferiore rispetto al numero di descrittori che il software trova per ciascuna immagine ma tieni conto di una cosa che il tie point limit è un numero massimo che si riferisce al confronto a coppie cioè si riferisce al confronto di due immagini se tu consideri che un'immagine viene confrontata non solo con un'altra immagine ma con un bel numero di immagini con le quali probabilmente avrà punti avrà punti comuni quindi con le quali sicuramente ci saranno dei punti caratteristici che diventeranno punti di legame capisci bene come il tie point limit non ti deve influenzare sul fatto che quello è il numero massimo di punti di legame in ciascuna immagine quel numero massimo di punti di legame per coppia di immagine per ciascuna immagine appunto il numero di punti di legame che ti verrà fuori sarà sicuramente più alto fatto questo generalmente la scelta dei parametri sull'allineamento è finita lanci l'allineamento aspetti il tempo necessario al software per fare l'allineamento e avrai in output la nuvola di punti sparsa punti colorati punti che occupano uno spazio tridimensionale attenzione che questo non è questa è l'elaborazione structure from motion qui hai trovato la forma dal movimento e hai determinato la posizione tridimensionale di punti di legame non stiamo ancora parlando di dati solidi perché manca una fase importante che è quella della georeferenzazione e dell'orientamento che avviene con l'inserimento dei punti di appoggio dei punti di controllo e l'ottimizzazione dell'allineamento però qua finisce l'elaborazione structure from motion qui finisce l'algoritmo sfm una parola soltanto per quanto riguarda altri dati in output a questa fase di cui ti ho accennato prima sono relativi a ciascuna immagine del dataset ogni immagine viene caratterizzata in termini di parametri intrinseci o parametri di calibrazione e questo avviene alla fine di questa fase perché avviene grazie alla risoluzione dell'equazione di collinearità per ciascuna immagine i software generalmente ti permettono di definire la lunghezza focale precisa perché poi la tua macchina fotografica potrebbe avere un obiettivo da 20 mm 24 mm ma in realtà la lunghezza focale è un parametro che viene calcolato in maniera molto precisa in questa fase e generalmente si discosta un pochino da il valore nominale 24 mm potrebbe essere un po' di più o un po' di meno è qua che viene definito viene definita la posizione del punto principale il punto principale non è nient'altro che la proiezione sul piano dell'immagine del centro di presa il centro di presa te l'ho detto appena prima qual è che cos'è è il punto d'incontro di tutti i raggi proiettanti ecco la posizione la proiezione del centro di presa sul piano dell'immagine è il punto principale non è mai il centro dell'immagine ha sempre una coordinata una coppia di coordinate sul sistema di riferimento interno all'immagine cx e cy che se immagini che il sistema di riferimento abbia il centro nel centro dell'immagine non è mai 0 0 ha delle variazioni e poi ci sono una serie di parametri che vengono determinati che sono legati alle distorsioni la distorsione è un'aberrazione cromatica non è cromatica è un'aberrazione molto importante un'aberrazione ottica molto importante che influisce sul processo fotogrammetrico e che deve essere trattata in questo modo con l'allineamento delle immagini ogni immagine ha determinato al suo interno qual è la distorsione e la distorsione ha due ci sono due tipi di distorsione la distorsione radiale e la distorsione tangenziale la distorsione radiale è quella responsabile del 90% dei problemi tra virgolette legati all'elaborazione all'allineamento delle immagini e alla risoluzione dell'equazione di collinearità per cui è quella che è un po' più bastarda quella che incide un po' di più rispetto alla distorsione tangenziale generalmente i software hanno indicati come k una serie di parametri k, k1, 2, 3, 4 i parametri di distorsione radiale che vengono definiti per ogni immagine e con p p1, p2, p3, p4 i parametri di distorsione tangenziale relative a ciascuna immagine tutte queste cose vengono definite vengono determinate vengono risolte e vengono conosciute perché tu poi le puoi interrogare alla fine dell'allineamento delle immagini alla fine del processo di structure from motion qui si chiude il cuore secondo me il cuore dell'elaborazione fotogrammetrica da qui in avanti potrai generare potrai inserire punti di controllo punti di appoggio ottimizzare gli allineamenti e poi determinare la nuvola di punti densa ma l'elaborazione la famosa parte structure from motion l'algoritmo sfm è finito qua quindi gli algoritmi structure from motion agiscono nell'allineamento delle immagini ognuna delle primissime parti dell'elaborazione all'interno di un software di fotogrammetria e con la fine della parte structure from motion dentro un software di fotogrammetria chiuderei anche questa puntata spero di aver tirato delle informazioni interessanti utili di averti fatto aiutato a fare chiarezza su che cos'è la parte structure from motion all'interno di un processo fotogrammetrico all'interno di un software di fotogrammetria come sempre per qualsiasi dubbio o qualsiasi domanda contattami mi puoi contattare su telegram che è il modo che preferisco di gran lunga mandandomi una nota audio o un messaggio a telegram.me slash Paolo Corradeghini su telegram ti puoi unire anche alla piccola community molto attiva del canale telegram di 3Dmetrica che trovi a telegram.me slash 3Dmetrica scritto in lettere ogni giorno ci metto un po' di informazioni aggiornamenti un po' lì dietro le quinte di quello che faccio comunque trovi tutti i miei contatti di nuovo nella sezione contatti di 3Dmetrica.it trovi il mio indirizzo email trovi anche il mio telefono trovi il mio contatto i miei canali social network personali di facebook e di linkedin e la pagina facebook di 3Dmetrica ogni tanto ci tengo a rinnovare l'invito a inviarmi i tuoi commenti le tue critiche soprattutto le critiche costruttive mi aiutano tantissimo a migliorare questo progetto di podcasting per cui non esitare a contattarmi per farmi sapere quello che pensi di questo podcast ma anche quello che pensi un po' del blog e di quello che comunico online per me sono davvero importanti se hai voglia se vuoi spendere qualche minuto di tempo puoi scrivere una recensione a questo podcast su itunes e una recensione su itunes aiuta il podcast a crescere in visibilità e quindi magari a raggiungere anche altre persone che potrebbero essere interessate a questi temi non è complesso vai su itunes lascia una recensione a questo podcast con un commento tutto quello che ti senti di voler dire di voler comunicare a me fa sicuramente piacere per cui ti ringrazio sindora se vorrai spenderci qualche minuto del tuo tempo ok siamo arrivati alla fine anche di questo episodio io ti ringrazio per il tuo tempo per essere arrivato fin qua ad ascoltarlo ti do l'appuntamento al prossimo alla prossima puntata del podcast di 3Dmetrica ti saluto fortissimo ciao da Paolo Corradeghini ciao 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 Grazie.